Anche a Treviso, attenzione altissima per il rischio di possibili proselitismi islamici da parte di giovani immigrati di seconda come di terza generazione nei confronti dei loro coetani. Ma, visto quanto accade nelle vicine province, soprattutto di italiani che, convertiti all'Islam, si sono dimostrati tra i più radicali e pericolosi. Il fenomeno chiaramente è attenzionato, è una problematica notevole che speriamo di non avere sul nostro territorio, però questo non vuol dire che non stiamo facendo molta attenzione a evitare che ci siano delle manifestazioni terroristiche sulla nostra zona. E nel quadrilatero tra San Fioro, Orsago, Conegliane e Vittorio Veneto, al confine con le province di Belluno e Pordenone, il luogo di incontro dei bosnieci musulmani convertiti alla GIAD, così secondo delicate indagini della procura distrittuale di Venezia, nella marca collaborazione interforze di tutta la polizia. Noi controlliamo, per quanto c'è possibile, tutto il territorio. Le forze di polizia collaborano, anche con le polizie municipali. Questo è un lavoro che facciamo su tutto il territorio. Quello che chiediamo, io sto visitando, ho finito quasi tutti i comuni della provincia. La preoccupazione è alta, al punto che dalla prefettura si chiede anche ai cittadini di fare la loro parte, non sottovalutando nulla di strano o particolare, segnalando persone, situazioni, ma anche oggetti, veicoli di dubbio a natura o provenienza. L'appello direttamente dal prefetto. Quello che chiedo sempre è anche la collaborazione da parte dei cittadini. Non possiamo avere gli occhi dappertutto, ma ci sono gli occhi di tutti i cittadini, che quindi quando vedono qualche cosa che è al di fuori della normalità, possono vedere delle persone che non sono abitudinari, delle macchine che non sono di quella zona. Se le segnalano le forze di polizia non ci danno assolutamente un dispiacere o un fastidio, anzi collaborano con noi per riuscire a controllare il territorio.